Musica Via, accomodatevi tutti e due, vorrei anch'io, se mi date uno sgabello, se togliamo questa, se no spiuto. Grazie, grazie. Oh, vedi, a noi tocca lo sgabello. No, anche a me, veramente. No, dico a noi come intervista, come transcede, perché queste poltrone non si possono consumare tutte, adesso un po' lo sgabello. È molto comodo, devo dire che è molto comodo lo sgabello. Lo sgabello sì, perché non ti dà problemi quando ti segue i pantaloni che si alza sul calzino e poi dopo rimane il polpaccio fuori. Tutto così, tutto così. Allora, vediamo subito, voi avete... Dicci in italiano, dai, tranquillo. Tutta un'altra vita. Tutta un'altra vita. E di che dobbiamo parlare? Qui si parla di tutta un'altra vita. No, però noi, diciamo subito. Poi però ti aspetto per faccia a faccia, ti aspetto per faccia a faccia. Qui parliamo del film. Noi non siamo venuti, perché sennò si farebbe... No, per carità. Non siamo venuti qui a fare la pubblicità del nostro film. No, guarda che l'hai detto già verissimo, ti ho visto ieri, dicevi la stessa roba, eh. Però, sennò sembra brutto, perché la gente a casa poi che pensa, capisci? No, qui sei venuto per fare la pubblicità del film. No, allora, adesso io dico, cioè noi possiamo venire qui per dire che Tutta un'altra vita è il primo film italiano in classifica adesso. Non lo possiamo dire. No, non lo possiamo dire, ma non lo diciamo. No, pare brutto, perché la gente, guarda, c'è un conflitto di interesse. Ma per carità, perché si arrabbiano gli altri. Ma ci sarà un'indagine parlamentare. Qui adesso il governo... Non lo posso dire, ma veramente... No, non lo puoi dire che è il primo in classifica. Non lo posso dire, perché... Ed è uscito solo quando... Perché la gente si crede, è uscita da tre giorni, se la gente si crede, ah, ecco, adesso mo ci vuoi dire che il film fa ridere, ah, bravo, Brignano, bravo, capisci? Bevi un po' d'acqua, amore, e mandiamo il trailer. Buonasera. Buonasera. È veramente un white party, signore. Oddio, avevo letto solo parti. Vabbè, non fa niente, va. Però io non posso farlo entrare. Ma come no? Ma chi siete? Ma che vuoi? Ma che è casa tua, scusa? No, veramente io sono solo il consierge. Solo il consierge? Potevi studiare. Amore, che fai? Mi lasci qui? Scusami. Buonasera. Andiamo? Lei aveva letto anche white. Allora, siamo davvero molto felici, no? Di questo grande successo. Enrico, vogliamo dirlo? No, non lo so. No, non lo diciamo. Non lo diciamo, non lo possiamo dire. Possiamo dire cosa fa Ilaria nel film? Ilaria... Lo vuoi dire te? No, dillo te. Dai, Ilaria. Perché io non vorrei abusare del potere di cui sono, per carità di... No, no. No, no. Poi non è da te, lo possiamo dire. No, no. Possiamo dire. Di, tu sei. Io sono Lola. Lola è questa ragazza in cui si imbatte il personaggio di Enricone. Allora, anche lei si inventa un'identità perché lei finge di essere una ragazza, diciamo, dell'alta aristocrazia romana, poi invece si scopre essere... Non ve lo possiamo dire, non ve lo possiamo dire. Devono andare in cinema per saperlo. Beh, sì, non possiamo dire. Lo possiamo dire. Ma è uscito il film? Il film è uscito, è uscito, ma non si può dire. È uscito da giorni 350 copie di milioni cinema delle... Però non lo possiamo dire. Perché pare brutto. Anche nei confronti delle altre tv private. Private di tutto. È pazzesco. In questa Italia che, veramente, io non mi capacito. Ecco. Dai, che è? Però vogliamo... Noi è piena, è un'altra crisi di pianto. Adesso chi ci fai venire? Qualcuno che è morto? Nozio. Chi ci fai venire? Chi entra da quella porta? Deve entrare Romina che canta. Romina che canta. Che cantiamo tutti insieme. Insieme alla governante. Era morta. Esatto. Morta ma era... E voglio rimandare quel pezzo di filmato. Ecco. Nel frattempo... Nel frattempo. Mi avevano detto che dovevate venire qui per promuovere un film, no? Sì. Però non si può promuovere. Non possiamo dire il titolo. Perché siamo... Puoi tornare la prossima settimana? Siamo sotto campagna elettorale. Ma puoi tornare la prossima settimana? Sto mica scherzando, eh? Io adesso telefono i miei legati. Vediamo come va la settimana. Se posso venire? Sì. Io chiamo il commercialista. Sì. Non lo so. Tu... Adesso vediamo. Chiamo... Abbiamo mandato l'altro trailer? No. Non l'abbiamo mandato. Ne abbiamo solo uno. No. Vabbè, ma allora... Allora ditecelo, scusa. Io potevo... Vabbè che è la prima puntata però, dai. Baila destacito, io sono animato, mover il corazone, peligroso, eres peligroso, pienso en tu peso, que mueve il corazone. Allora, tutta un'altra vita. Primo in classifica dei film italiani con Enrico Brignano, Ilaria Spada e... E c'è qualcun altro. E c'è Paola Minaccioni. Esatto. Paolo Sasanelli. Cioè, ci sono grandi attori anche che avete visto. Tutta, veramente, contributi pagati. È stato... No, no, sempre Empal Simps, no? Perché qui bisogna chiarire. Sennò c'è l'indagine parlamentare. Il coso del... Arriva il fisco. Ragazzi, grazie di essere stati con noi.